Saluto, mi sta sempre sano, andiamo a Proxime della Centro. Che migliori smontri a lui, interessano già bene. Buongiorno, non è? Iomba colori, iomba diversi colori. Sì, qui è stata la 1, che è non la 2. Sì, qui è stato la 2, questa è anche un barco, c'è qui. Come sta a vittorio? Hai già partito? Vedi quando, quando... Vedi quando, quando... Vedi sangue, ho chiamato Tristan. Vedi quando, quando... Vedi quando, quando... Vedi quando, quando... Vedi quando, quando... Vedi che vittorio, dopo... Vedi se vittorio...